Ciao a tutti ragazzi, come andiamo? Bentornati sul canale Times Gadget e bentornati in questa nuova video recensione. Oggi siamo in compagnia di un altro prodotto della Peak Design e abbiamo qui davanti la Poch Tech. Che cosa sarebbe? Sarebbe una bag smart o comunque una pochette, chiamatela come volete, da inserire anche all'interno dello zaino oppure da portare con voi anche separatamente dallo zaino. Adesso vi faccio vedere come si può utilizzare. L'ho fatto vedere, ve l'ho fatto vedere in questa recensione qui. Questo qui è il nuovo zaino della Peak Design Everyday Backpack Zip. Se non l'avete vista andatela a vedere perché si tratta di uno zaino di un prodotto per laptop e per fotocamere davvero interessantissimo. Ve lo lascio qui sopra da qualche parte e anche qui sotto in descrizione. Comunque molti di voi quando l'hanno vista mi hanno richiesto se potevo portare una recensione approfondita singola solamente di questa Poch Tech e quindi oggi eccoci qui a vederla insieme. Partiamo subito andare a parlare del design e anche dei materiali esterni. Com'è fatto? Allora i materiali esterni sono i medesimi dello zaino seppur sono, li trovo leggermente un po' più gommati. Abbiamo sempre questa righettatura fittissima orizzontale. Sullo zaino invece abbiamo un verticale, sembra, simile. Comunque molto bella. Non è gommata ma dà quel senso leggermente di gommatura, soprattutto anche nella parte qui dietro che questa qui è un po' più rinforzata, un po' più resistente. Questa fascia qui non è altro che un passante per poter far passare anche una cinta più grande o se ne avete una più piccola potrei anche far passare qui fuori all'interno della bag smart. Questo perché? Perché questa bag smart non è stata pensata solamente per essere utilizzata all'interno dei zaini ma è stata pensata anche, vedete anche qui abbiamo un altro passante, anche come minimo alzupio. Se volete attaccare la cintura lo potete comunque fare. Ed è una cosa interessante perché questa bag smart ha, diciamo, diversi tipi di altezze a seconda dei prodotti che ci mettete all'interno. Quindi più la andate a riempire e più tramite questi tipi di chiusure con gli strap, vedete, la potete agganciare e chiudere più in alto oppure la possiamo andare a restringere se avete meno prodotti anche fino a farla arrivare qui in basso. Adesso poi ve lo faccio vedere man mano che vi vado a tirare i prodotti fuori. Nella parte esterna poi non abbiamo più nulla se non il brand qui della Big Design. Molto bello perché apprezzo davvero tanto anche la cura che hanno questa azienda nei dettagli. E qui dietro però abbiamo altre due piccole caratteristiche molto molto interessanti. Abbiamo questi due perni. Questi due perni ho però da toglierli ma sono un po' difficili comunque da togliere ma si possono anche rimuovere. Ma che cosa servono? Servono a poter utilizzare questa tracolla, questo marsupio o comunque questa pochtec anche come tracolla. In che modo? Basta che prendete o compriate una tracolla dalla Big Design. Io questa qui è la mia che l'avevo comprata un paio di anni fa perché la uso per la fotocamera e vi posso dire ragazzi se non l'avete ancora mai provata, provatela o acquistatela perché si tratta della miglior tracolla per fotocamere. Io ormai ho abbandonato tutte quelle diciamo originali che trovate incorporate, inserite nelle fotocamere e utilizzo solamente questa perché abbiamo questo sistema di attacco e di sgancio rapido ma anche per poter estendere la tracolla davvero utilissimo. Ma soprattutto quello che fa la differenza è proprio questo nuovo tipo di attacco proprietario della Big Design. Insieme a questa tracolla se nel caso questi qui sono troppo piccoli perché ho fatto caso che non abbiamo la stessa grandezza, lo faccio vedere anche in questo, questo qui è il cordino che trovate con lo zaino, ve l'ho fatto vedere ieri. Guardate come sono fatti. Allora noi abbiamo questa qui che è il cordino principale dove va attaccato, può andare attaccato non so, la chiave oppure questo qui lo potete anche inserire direttamente sui passanti della fotocamera al posto di quello originale. Voi non dovete fare altro che premere e staccare in quella maniera, in questa maniera. Io ve lo sto facendo vedere qui perché in pratica mi sono accorto che questi due cilindri sono leggermente differenti. Guardate, non ho capito il motivo, questo qui è una cosa che non sapevo ma io ero convinto che lo potevo utilizzare, potessi utilizzare la tracolla anche con questa, scusatemi, la pochetech anche con questa tracolla ma invece non ci sono riuscito perché quando la vado ad attaccare non riesce ad inserirsi qui dentro. Questo perché penso che abbiate bisogno della tracolla quella più grande perché questa qui è la misura mi sembra quella più sottile, c'è anche quella più larga che sicuramente potrebbe fare a caso vostro nel momento in cui siete interessati a prendere una tracolla. Comunque se nel caso non volete questa la potete staccare quando acquistate questa tracolla più sottile vi escono tre tipi di attacchi che potete poi andare a sostituire a questi qui. Quindi è un discorso molto molto intelligente e soprattutto mi è piaciuto questa funzione che può essere utilizzata questa backsmart, questa pochetech in tre diversi modi. Non solo come backsmart all'interno di uno zaino ma avete visto come può essere utilizzata come marsupio ma anche come tracolla grazie a questi loro attacchi. E poi questi attacchi ragazzi ve lo posso dire sono fenomenali, vi consiglio assolutamente di provarli. Comunque all'interno cosa abbiamo? Adesso la vado ad aprire. Internamente molto bello il logo Peak Design qui sopra e guardate com'è fatta internamente. Adesso io ho inserito davvero tante cose perché sono la maggior parte delle cose che poi porto tutti i giorni come all'interno di uno zaino e abbiamo, nel frattempo ve li tiro fuori così vi fate anche un'idea della grandezza di questa pochetech perché so che dalla videocamera potrebbe sembrare un po' più piccola, un po' più grande ma in modo tale vedete le cose che c'entrano. Questo qui è il primo hub della RAM Power, molto molto utile, affidabile, davvero utilissimo nell'utilizzo quotidiano, specialmente quando siete in giro o lavorate non a casa o non a studio. All'interno vedete come è sviluppata, come è fatta. Abbiamo due tasche qui che non sono elastiche, dove all'interno la prima, vedete com'è fatta? Qui abbiamo tutto un materiale ricoperto in tessuto, molto bello e mi sono piaciuti anche le varie colorazioni. Le colorazioni riprendono tanto gli abbinamenti che trovavamo sul primo modello del Peak Design, il primo zaino. Io vi lascio il link qui sopra, anche qui sotto in descrizione, per chi di voi non l'aveste visto, alla recensione, al primo Everyday Backpack, lo zaino per cui questa azienda poi è diventata famosa. Comunque internamente qui abbiamo la prima tasca che non è possibile espanderla, ma è tutta rivestita ed è molto molto comoda, molto bella e porto con me la prima Power Bank, questa qui è una della Mofi, ve la porterò poi in una recensione con le migliori Power Bank per questo 2020. Invece qui a fianco poi, con la stessa tasca, diciamo anzi separata, ma abbiamo lo stesso identico design, la stessa identica grandezza, porto con me anche il SanDisk Extreme da 1TB, questo qui è veramente preziosissimo perché è un hard disk esterno piccolissimo ed è davvero utile perché oltretutto è anche veloce in scrittura e in lettura. E poi abbiamo all'interno qui altre due taschine, guardate, questa e quest'altra. In questa adesso non ci portavo nulla, ma ci portavo con me anche le varie penne solitamente, questa qui, SanDisk, USB-C, USB-A, sono quegli oggetti più piccoli che possiamo mettere qui dentro. E poi invece da quest'altra, dato che è elastica, perché vedete com'è fatta, questa incolorazione giallognina che poi oltretutto, come ho detto prima, riprende la colorazione gialla e nera del primo Peak Design, porto con me le cuffie. In questi giorni ho ricominciato a riutilizzare anche un po' le Samsung Buds, che sono sempre molto molto utili e soprattutto molto piccole. E poi guardate come si sviluppa all'interno. Abbiamo questa singola tasca dove porto un cavo, questo qui è il classico cavo della Hotterbox USB-C, USB-A, la seconda Powerbank, questa qua secondo me è una delle più comode, delle più utili che ho utilizzato fino ad oggi e soprattutto in quest'ultimo anno da quando la porto, è la 10.000 mAh della Samsung con ricarica rapida, wireless, ma anche con ricarica rapida da questa parte, USB-C, USB-A, tutta tutta in alluminio, quindi ve la posso consigliare assolutamente perché è davvero un ottimo prodotto. Io comunque tutti questi accessori, oltre alla Porchetech, vi lascio qui sotto direttamente i link ad Amazon se nel caso siete interessati e volete acquistarli. E poi all'interno vedete com'è fatta? Allora abbiamo questa tasca grande, principale, tutta rivestita, mi piace perché tutte le tasche sono davvero molto ben rivestite, rifinite anche nei piccoli dettagli. Qui sotto poi che cosa abbiamo? Abbiamo anche... Ah, questo qui è il classico cavo, ve l'ho fatto vedere anche ieri nella recensione dello zaino, anzi qualche giorno fa. Questo qui abbiamo il classico cavo lightproof, resistente ad acqua e ad urti, grazie a questo sudo appuccio, USB-C, USB-A, la trovate anche con la porta lightning, jack e jack e anche chiaramente con la micro USB. Anche di questo vi lascio il link sempre qui sotto in descrizione. E poi una cosa che mi è piaciuta è che abbiamo anche quest'altra taschina qui, guardate, qui abbiamo un'altra zip piccola, nascosta, perché è molto utile, dato che lo possiamo portare con noi, un'altra qualsiasi cosa, documenti, oggetti anche un po' più preziosi. E questo qui mi riferisco non tanto per l'utilizzo da pochetech o comunque da backsmart all'interno dello zaino, ma mi riferisco all'utilizzo che se ne può fare di questa tracolla, sia come tracolla proprio, ma anche come marsupio. E questa qui è una tasca utilissima per mettere i soldi, portafoglio o anche il telefono, vedete? Io adesso ho messo proprio appositamente, di proposito, il Note 10 Plus, perché è un telefono molto grande, in modo tale che vi potete rendere conto della grandezza di questa tasca, perché è davvero abbastanza ampia. Guardate anche com'è fatta bene. Qui la zip che è quasi invisibile, e questa qui è una cosa che ho apprezzato tanto. Infatti questa funzione di questa taschina qui dentro non l'ho apprezzata, non l'ho capita fin tanto che non l'ho cominciato a utilizzare questa backsmart anche come marsupio. Quando lo utilizzate come marsupio cominciate a capire anche gli altri punti positivi che ha questo prodotto. Vedete poi, una volta che si scarica del tutto, oppure possiamo anche portarlo con meno carico, per esempio vi faccio un esempio di come si potrebbe portare in giro anche come marsupio, con una powerbank, le cuffie, e non so, facciamo finta, un cavo, e poi ci rimettiamo qui dentro il telefono, settata in questa maniera, una volta chiusa, guardate dove si va a chiudere e quanto diventa piccola. Quindi diventa molto più piccola, molto più sottile, molto più compatta, e la possiamo portare tranquillamente con noi come marsupio. Ma anche all'interno degli zaini diventa un prodotto che è molto flessibile, perché non abbiamo a che fare con una backsmart di dimensioni già prestabilite, quindi rigide o semi rigida, che a prescindere da quello che ci mettiamo all'interno, le dimensioni sono sempre quelle. Ma qui vanno a variare, ed è stata questa qui la comodità più grande di questa Poch Tech. Che poi, oltretutto, è molto bella perché è semi morbida, ma è anche leggermente gommata nelle parti qui sotto, che è quelle dove si può andare a deteriorare di più, o comunque la possiamo anche, vedete, a strusciare, o anche, non so, è possibile che può cadere la Poch Tech con la roba all'interno. Qui sotto non vi dico che sia tanto tanto rinforzato, però comunque abbiamo un minimo di rinforzo. E la cosa molto comoda è che questa parte, che è quella che struscia di più quando la portiamo come marsupio, è quella che struscia di più al corpo, è quella invece più rinforzata, è anche quella più gommata. Quindi l'ho apprezzato parecchio sotto tanti aspetti. Questo tipo di Poch Tech, chiamatela adesso tracolla, backsmart, come volete, la possiamo trovare anche su Amazon ad un prezzo di 44€ circa. Lo so, il prezzo non è di più contenuti, specialmente pensando a backsmart che sono molto molto più convenienti, anche diciamo con un prezzo low cost, molto più basso. Però vi posso assicurare che questa qui non si parla solamente di una backsmart semplice, come quella che vi ho già recensito precedentemente di altre marche, ma si parla di una, è tracolla Poch Tech, backsmart, marsupio, un po' di tutto, che è molto molto comoda, molto flessibile nell'utilizzo di tutti i giorni. Anche perché non so se ci avete mai pensato, a me è capitato quando l'ho portato in giro in questo periodo insieme allo zaino, ma se avete lo zaino molto pieno, questa qui è l'unica backsmart che voi, per poter liberare un pochino di spazio, se volete fare spazio a qualche prodotto che avete comprato in giro e non sapete dove metterlo, voi potete tirare fuori questa qui dallo zaino, utilizzarla con la tracolla oppure anche come marsupio e quindi poter liberare ulteriormente spazio all'interno dello zaino. Ecco perché vi dico che è un prodotto davvero fantastico, seppur comunque così può sembrare una semplice backsmart, una semplice pochettina, ma vi posso dire che è molto molto comoda e soprattutto è davvero ben fatta perché mi piacciono le rifiniture, il design, ma anche i materiali. Questa tracolla, questa Poch Tech, oltre che su Amazon, la possiamo trovare anche su sito ufficiale azienda, ad un prezzo meno inferiore e qui parliamo di 36,50€, una cosa del genere, comunque siamo sulla fascia tra i 36-37€, ma a cui dovete poi aggiungere le spese di spedizione, quindi non so a quanto poi ammontino le spese di spedizione oltre 36€. Però sul sito ufficiale la possiamo trovare anche in diverse colorazioni, cosa che è un po' più difficilino trovarlo su Amazon, infatti il sito ufficiale dell'azienda la possiamo trovare in questa colorazione, che è un nero, poi lo possiamo trovare in grigio leggermente, un pelino un po' più chiaro, fate conto che è questo tipo di grigio qui, che troviamo su questo connettore, quindi un grigio quasi metallizzato, perché poi abbiamo questa finitura che è molto particolare, poi abbiamo un grigio ancora più chiaro, che riprende le colorazioni anche del Peak Design precedente, l'Everyday Backpack, vi lascio la recensione qui sotto, e poi abbiamo anche una colorazione per il pubblico femminile, salmone, davvero molto bella quella salmone, perché è un salmone con delle erichettature fittissime color bianco, quindi è un tipo di contrasto, è un tipo di colorazione molto molto bella e molto anche elegante. Io comunque anche dello store ufficiale, vi lascio tutti i link qui sotto, poi fatemi sapere voi, come al solito ragazzi, se avete qualsiasi altro dubbio, informazione, volete anche qualche altro dettaglio, non esitate a contattarmi qui sotto nei commenti, oppure mi potete sempre contattare tramite gli altri canali social. Io vi ricordo sempre che fra quelli, tra i canali social più comodi dove mi potete contattare, sono quelli di Instagram e anche il gruppo di Telegram, anche di questi, come chiaramente anche su Facebook, però su Instagram e su Telegram lo preferisco per come si gestiscono le chat e i messaggi, comunque anche di tutti questi canali social vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. E come al solito ragazzi, in conclusione di questo video vi ricordo sempre, se vi piacciono questi tipi di prodotti, vi piacciono anche questi tipi di recensioni e volete che vi porti altri tipi di questi accessori, lasciate un bel like qui sotto, mi fa sempre molto piacere e aiuta anche a supportare il canale. E poi come al solito, se vi piacciono questi tipi di recensioni, non scordatevi di iscrivervi qui sul canale YouTube, accendete la campanella delle notifiche trovati qui sotto, a fianco al pulsante rosso, iscriviti, per sapere sempre quando sono stati caricati nuovi video. E poi come ultima cosa ragazzi, se vi interessa contattarmi in privato, come ho detto già prima, per qualsiasi altra domanda, o volete anche sempre rimanere aggiornati su tutti i prodotti che mi arrivano in anteprima, agli eventi a cui partecipo, alle presentazioni, non scordatevi di iscrivervi in particolar modo sul canale di Instagram. E come al solito, come ho detto prima, vi lascio sempre i link qui sotto in descrizione. Detto anche questo ragazzi, noi ci vediamo alla prossima video recensione. Da Dems Gadget per Giorgio, buona giornata a tutti e grazie ancora. Grazie a tutti e grazie a tutti.